Che cosa è successo? Quella non la voglio e apostrofo, Albano, Romina Power guerra contro Loredana Leciso, ecco cosa è successo Albano Carrisi, Loredana Leciso e Romina Power sono il triangolo classico della storia della televisione. Anche se i rapporti ormai non sono più così incrinati come un tempo, pare ci siano state delle precisi disposizioni. Romina Power e Loredana Leciso sono sicuramente due delle donne dello spettacolo più seguite del momento. Secondo Libero Quotidiano però Buonsangue ancora non scorrerebbe tra i due. Entrambe ex mogli del noto cantante Albano Carrisi, ed entrambi madri di alcuni dei suoi figli, tra le due non corre Buonsangue. Nonostante i tentativi di smentita e gli sforzi di Albano per la riappacificazione, è palese che il rapporto tra le due non sia certo tra i più idilliaci, per usare un eufemismo. Le presunte pretese di Romina Power e ex moglie di Albano Carrisi. Romina Power è una delle donne dello spettacolo più amate e seguite in Italia. Con Albano, Romina ha condiviso oltre vent'anni di matrimonio ed il loro celebre duetto Felicità è ormai un inno che ha segnato più di una generazione nel nostro paese. Dopo il divorzio con Romina Power, Albano Carrisi si è risposato con Loredana Leciso, altro volto noto della nostra televisione, da cui ha avuto anche dei figli. Sebbene, dopo il divorzio anche con Loredana Leciso, Albano si è rimasto in ottimi rapporti con entrambe, la stessa cosa non si può dire del rapporto del rapporto tra le due ex mogli del cantante. È noto infatti che tra Romina Power e Loredana Leciso ci siano state alcune diatribe, che hanno portato ad un inasprimento dei rapporti tra le due. Che tra le due showgirl non corra buon sangue è confermato anche dal settimanale Spy. Secondo la rivista Romina Power, ospite d'eccezione nello show di Albano prossimamente in onda su Canale 5, avrebbe posto il suo veto alla presenza della Leciso nello stesso show. Addirittura, stando a quanto affermato da Spy, la Power avrebbe preteso che l'assenza della Leciso nello show fosse inclusa, nero su bianco, nel suo contratto. L'ruolo delle figlie di Albano nello show. . Il grande spettacolo di Albano Carrisi, presto in onda su Canale 5, è attesissimo da tutti i telespettatori fan del cantante e della coppia Carrisi Power. Non sono pochi infatti i nostalgici che sperano di rivedere i due insieme nella vita oltre che sui palchi di tutto il mondo. Oltre a Romina Power Albano ha deciso di farsi affiancare nello show dalla figlia Christelle Carrisi. Sembra che sia stata proprio Romina Power a spingere affinché il ruolo fesse affidato alla figlia, originariamente infatti Albano sarebbe dovuto essere stato accompagnato sul palco dalla spagnola Roccio Monoz Morales, moglie di Raul Bova. . Oltre a Christelle anche Yasmine Carrisi, figlia di Albano e Loredana Leciso, reciterà con il padre nello show. . .